Sì, siamo qui con Aleksandr Adanasevic e questa sera Bada ti ho fregato perché tu fai l'intervista solo in inglese e mi sono portato tanto di tradutrice. Bravo. Bellissimo. Anche bellissimo. Esatto. Siamo al termine di questa vittoria. Una vittoria senza fatti di Perugia in Champions League contro il Tour, una vittoria importantissima perché ci ha consentito di conquistare materialmente il primo posto qua. Sì, è stato molto importante vincere perché dopo questa vittoria abbiamo sicuramente il primo posto, come tu hai detto, e ora possiamo pensare per la prossima vittoria in Champions League e per noi è stato ancora più importante perché nei ultimi tre vittoria abbiamo vinto due contro Trento e uno contro Modena, quindi questo è importante per le nostre vittorie. Siamo molto contenti di aver vinto. Questa vittoria arriva dopo tre sconfitte nel campionato italiano con Trento, Modena e ancora Trento. E' stato molto importante anche per il nostro morale per tirarci su e quindi adesso concentrarci sul campionato. E quasi importante, adesso siamo primi nel girone G della Champions League. Questa cosa mi piace tantissimo. Vada, una vittoria, torniamo pure in seconda serie, una vittoria che è un po' tantissima anche appunto per il morale, insomma venivamo da un periodo non certo positivo e che quindi ci vuole dare un nuovo slancio per il campionato anche perché tra 48 ore c'è una partita di un tratto di semplice in casa quella lì. Questa è stata molto difficile. Questa è stata molto difficile, bravo a fronte perché secondo sete ha servito due in a row, che è stato molto importante per noi perché se perdono questa sete sarebbe più difficile. ora possiamo pensare a Latina perché il campionato è più importante per noi. La Coppa è passata, ora c'è solo il campionato e il campionato. Quindi, con la vittoria di Latina, oggi siamo arrivati a un buon modo. E io credo che questo campionato è molto forte. Adesso ci possiamo globalizzare sullo scontro con Latina che ci deve dare comunque uno slancio per il nostro campionato. La Coppa è sfumata, abbiamo la Champions e dobbiamo ringraziare anche il ROM perché con i suoi ace nel secondo set ci ha dato la possibilità di vincere e di essere più tranquilli in questo senso. Ok, vi diamo un applauso alla nostra. E anche all'ottimamente stampa che fuori lo so. Grazie, ciao!